Sale a 8 il numero delle vittime della frana a casa Micciola, tra di esse anche un neonato e due bambini. In mattinata è stata individuata l'ottava vittima della frana, si tratterebbe del 15enne Michele Monti. Ieri erano stati recuperati i corpi del fratellino Francesco e della sorellina Maria Teresa, mentre i genitori risultano ancora dispersi, un'intera famiglia spazzata via dalla furia del fango. Continuano le ricerche dei quattro dispersi, 230 gli sfollati al momento, quattro i feriti, di cui uno in gravi condizioni, all'ospedale Cardarelli.